Ciao a tutti, siamo nell'interno di un centro commerciale a Yokohama, questa è la mappa. Ci sono tutti i negozi che sono qua all'interno, in questa area di ristoranti, come potete vedere, e vi faccio vedere un po' come l'area interna, a me sembra abbastanza carina, soprattutto questa. Qua ci sono ristoranti in sequenza, uno con l'altro, però vedete, poi fuori loro espongono sempre il cibo, il menù, è tutto perfettamente ordinato, ma a parte questo, anche qua, qua fanno dolci, ci sono dolci anche. Sì, c'erano dolci, c'erano altre specialità, come potete vedere in visita. Ma la cosa molto carina che vi volevo far vedere è questa specie di area molto suggestiva che è fatta in questa maniera, un po' più buia, ed è fatta, guardate, è molto bella, molto lussuosa. e è fatta in questa maniera, guardate, è fatta in questa maniera. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci sono tutti addobbi natalizi Grazie a tutti 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 Ciao, ciao